Come orchestra organizziamo in tutti i periodi dell'anno delle attività che sono sia per chi ama la nostra musica, quindi il grande Gioachino Rossini, ma anche attività estive con attività di intrattenimento, musica anche moderna in luoghi stupendi della nostra regione, Pesaro, Fan, Urbino, ma anche tutto il territorio della regione Marche. Quindi per chi volesse venire nella regione Marche sicuramente musica e divertimento ce n'è in abbondanza. Ce lo faccia dire Presidente, lei l'ha già anticipato, noi abbiamo una regione straordinaria che ci mette a contatto con l'ambiente, col mare, con la montagna, con la cultura, con le moto, con lo sport e con la musica legata a questo nome così importante quale è quello di Gioachino Rossini, ma non solo perché poi in realtà la musica è diffusa in tutto il territorio della nostra regione ed è davvero un biglietto da visita unico. Sì, quest'anno tra l'altro faremo dei concerti sul Colle dell'Infinito, quindi Giacomo Leopardi, poi a Pesaro nelle cantine vitivinicole per un'attività di degustazione del vino assieme a musica dedicata, e poi al teatro di Matelica un gioiellino della regione Marche sicuramente da riscoprire, quindi lungo la costa, nell'entroterra, nei borghi ci sarà musica e tanta attività. Grazie.